Bivi, rettilinei, svolte improvvise e vicoli ciechi. La strada verso una mobilità sostenibile è pavimentata di scelte da compiere e non sempre sono le più semplici o intuitive. Per capirle meglio, in occasione del fuorisalone, nell'ambito della mostra evento Design Re Evolution organizzata dal magazine Interni, Eni ha pensato di realizzare in uno dei gioielli nascosti di Milano un grande gioco interattivo, progettato da Italo Rota e Carlo Ratti Associati. Un tabellone calpestabile, grande quanto un intero orto botanico e non uno qualsiasi. Benvenuti nell'oasi verde di Brera, benvenuti a Walk the Talk, energia in movimento, dove scoprire i passi da fare e quelli da non fare per ridurre la propria impronta carbonica diventa un gioco. La transizione energetica è un concetto ampio e articolato. L'architettura, il design consentono di comunicare in modo semplice concetti ampi. Per cui è un connubio naturale, energia ed arte e architettura che vuole portarci nelle condizioni di raccontare quello che è la transizione energetica e quello che è il nostro percorso verso il raggiungimento delle zero emissioni al 2050. L'obiettivo della neutralità carbonica diventa raggiungibile però solo se ognuno si impegna ad aggiungere il proprio tassello al mosaico generale. Un tassello che è fatto in primis dagli strumenti che ci sono messi a disposizione quotidianamente, come ad esempio il car sharing, uno dei punti di forza di Eni. Eni ha creato una società dedicata alla mobilità sostenibile, Eni Sustainable Mobility. Questo consente di sviluppare una realtà integrata lungo tutta la catena del valore, dalla disponibilità delle materie prime fino al contatto con il cliente finale, passando dalla produzione di biocarburanti e di biometano. Questo di fatto ci consente un ampio spettro di soluzioni per la mobilità sostenibile, ad esempio Smart Mobility, quale il servizio Enjoy. Oggi siamo arrivati a oltre 15 milioni di noleggi. È un'offerta che stiamo ampliando e sviluppando. Di recente abbiamo tradotto anche le city car elettriche. Questo perché? Perché il car sharing è proprio un esempio di mobilità sostenibile. Migliora la qualità dell'ambiente ma migliora anche la qualità della vita delle persone stesse. Tutti elementi che, fino al 26 di aprile, si potranno scoprire passo dopo passo camminando sulle caselle di Walk the Talk, dove immersi nel verde di un meraviglioso gioiello milanese si potrà capire di più sul futuro della mobilità, senza trascurare ovviamente l'aspetto puramente estetico del luogo e dell'installazione che raggiunge il suo apice non appena cala la sera.